Il premio Vincenzo Cannone è destinato agli studi comprensivi del territorio di Mister Bianco e Rocca Valdina e tende non a valorizzare la figura di Padre Cannone, il sacerdote appunto a cui è dedicato, ma a quanto a mettere in luce quelli che sono i valori che ha portato davanti in tutto il suo operato. Quindi la gioia di stare insieme e l'amore per le ragazze. Quindi il tema preciso del concorso è appunto la gioia di essere ragazzi, che è diversa dal passato ovviamente. Quindi si chiede una riflessione alle classi che partecipano sul cambiamento del modo di stare insieme, dei valori della vita quotidiana per i bambini e i ragazzi.